Approvato il disegno di legge, allontanamento zero. TPL, aumentate le risorse per il trasporto su gomma. Diventiamo cittadini europei, avvia gli incontri per gli insegnanti. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. L'Aula ha dato il via libera ad allontanamento zero. Il provvedimento stanzia 44,5 milioni nel biennio 2023-2024 a sostegno delle famiglie in difficoltà. Con 29 sì della maggioranza e 14 no dell'opposizione è stato approvato il disegno di legge allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità è enorme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare di origine. Il provvedimento, presentato per la giunta regionale dall'assessore Chiara Caucino, stanzia complessivamente 44,5 milioni di euro per il biennio 2023-2024, 22,3 milioni per il 2023-22,2 per il 2024, per interventi di sostegno alla genitorialità e prevenire così l'allontanamento dei minori dalla famiglia di origine. Si prevede in particolare che l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di origine per cause di fragilità o di inadeguatezza genitoriale non possa essere praticato prima della messa in atto di un progetto educativo familiare, PEF, della durata minima di sei mesi che coinvolga i servizi sociali, la famiglia e i minori. In caso di affidamento è privilegiato quello familiare entro il quarto grado di parentela. Particolare attenzione viene riservata ai minori con disabilità o disturbi del comportamento. Noi riteniamo che questa sia una legge che tutela assolutamente gravi casi di carenze che assolutamente continueranno a seguire lo stesso ITER, ma da un altro lato pone degli interrogativi e dei limiti importanti perché i bambini devono crescere nella propria famiglia e se ci sono i problemi economici vanno gestiti e aiutati a livello economico. L'affido è sotto attacco e in generale le famiglie piemontesi sono più povere perché avranno meno strumenti per essere aiutati. Purtroppo per noi non è una buona giornata per il Piemonte, ma da oggi è legge e comunque monitoreremo l'attuazione di questo provvedimento. Permetterà alle famiglie piemontesi e soprattutto ai bambini minori in grave difficoltà di poter essere aiutati e quindi poter ovviare degli allontanamenti quando questi sono solo causati in modo particolare dalle situazioni di grave difficoltà economica. Non è la condizione economica ad essere causa di un allontanamento in una famiglia, ci sono sempre ragioni ben più gravi che portano l'autorità giudiziaria e i servizi sociali ad effettuare un allontanamento. Oggi dopo un grande ascolto col territorio, con le famiglie, con i bambini, vincono il concetto di famiglia e il benessere dei minori. Silvana Accossato, liberi uguali verdi annunciando il voto negativo del proprio gruppo, ha accusato il disegno di legge di essere viziato da un pregiudizio di fondo, dove le situazioni economiche paiono essere la sola causa all'origine dei problemi delle famiglie. Mario Giaccone, monviso, ha rivendicato la serietà dell'opposizione che ha svolto un dibattito serio e motivato entrando nel merito delle questioni. Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, ha sottolineato il lavoro svolto in Commissione e in Aula per portare proposte ed evidenziare criticità. L'assessore Caucino ha replicato che la legge non ha un colore politico, ma va nell'esclusivo interesse dei minori e introduce un preciso dettato legislativo di supporto alle famiglie di origine, rispettando il diritto naturale dei minori a poter vivere nel nucleo originario. Trasporto pubblico locale, più risorse per quello su gomma. Per la prima volta negli ultimi due anni abbiamo stanziato 2 milioni di euro per il trasporto su gomma, un dato storico mai verificatosi che rappresenta sicuramente un'inversione di tendenza. Lo ha dichiarato l'assessore ai trasporti Marco Gabusi rispondendo all'interrogazione e risposta immediata del consigliere Alberto Avetta, Partito Democratico, sui frequenti disservizi registrati sulle linee del trasporto pubblico locale, in particolare sulle tratte Ivrea-Cossano-Canavese e Pinerolo-Piossasco. In momenti particolari su alcune linee ci sono stati dei disservizi, ha riconosciuto nella risposta l'assessore Gabusi, ma si tratta di episodi sporadici o di conseguenze di guasti ai mezzi. Quelle che risultano più affollate sono già state rinforzate. Solidarietà alle donne iraniane, scorta per Pino Masciari, Foibe, 5 per 1000 alle associazioni, 6 gli ordini del giorno approvati dall'Aula. All'unanimità il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno a prima firma Giorgio Bertola, Movimento 4 Ottobre, con il quale si chiede che non sia tolta la scorta a Pino Masciari, storico testimone di giustizia contro l'Andrangheta calabrese, ormai piemontese d'adozione, come ha precisato lo stesso Bertola. Purtroppo la criminalità organizzata non dimentica, quindi è importante che le istituzioni piemontese siano al suo fianco e al fianco di tutti i testimoni di giustizia. È importante che il Ministero riveda un po' la questione e valuti severamente non sussistono ancora delle ragioni di pericolo per Pino Masciari e per la sua famiglia. Con il solo voto contrario di Liberi Uguali Verdi e favorevole da parte degli altri presenti, è stato poi approvato l'ordine del giorno di Andrea Cane, Lega, che sollecita la Giunta a sottoscrivere gli accordi di collaborazione con le associazioni degli istriani, affinché il giorno del ricordo per le vittime delle foibe sia promosso e sostenuto. Un'animità anche per l'ordine del giorno di Silvio Magliano, moderati, che chiede la tempestiva liquidazione delle quote delle 5 per 1000 del 2021, quindi relative ai redditi 2020. Le associazioni stanno ancora aspettando queste somme decisive per le loro attività, ha ricordato Magliano. Sono stati poi approvati, con voto unanime, tre ordini del giorno, affirma Domenico Rossi, Partito Democratico, Alessandro Stecco, Lega, e Paolo Ruzzo, la Forza Italia, a sostegno delle donne iraniane e di condanna per la morte di Masa Amini, uccisa perché accusata di non indossare il velo secondo le direttive di legge vigenti in Iran. Sono partiti gli incontri preparatori del concorso Diventiamo Cittadini Europei. Al via gli incontri di presentazione per gli insegnanti della 39esima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei. Promosso dalla consulta regionale europea e rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte, è volto a promuovere tra gli studenti l'identità europea e ad ampliare la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza europea. Cerchiamo di fare riflettere i ragazzi secondo me su due argomenti molto attuali, importanti che sono appunto uno riguardano la siccità, il cambiamento climatico, l'aumento dei costi energetici e l'altro riguarda le nuove regole sulla tutela dei cittadini. Dare a loro la possibilità di avvicinarsi a questa che è la più importante istituzione che abbiamo nel nostro paese sovranazionale e speriamo dopo il termine della pandemia che dia a loro la possibilità, quantomeno a quelli che vinceranno questo concorso, di visitare una delle sedi del Parlamento europeo e quindi entrare personalmente all'interno della macchina e rendersi conto attraverso una visita guidata di come funziona questa importante istituzione. Il Presidente del Consiglio Stefano Allasia con l'ufficio di Presidenza e il Vice Presidente della Giunta Fabio Carosso ha ricevuto durante una pausa dei lavori d'aula una delegazione del Movimento Extinction Rebellion in presidio davanti alla sede di Palazzo Lascaris. Dichiarare lo stato di emergenza climatica e avere chiarezza sulle azioni che la Regione vuole intraprendere per ridurre le emissioni. Queste le richieste esposte. Durante l'incontro erano presenti consiglieri di diverse forze politiche. Sono intervenuti Diego Sarno e Domenico Rossi, Partito Democratico, e Giorgio Bertola, Movimento 4 Ottobre. Il Presidente della Commissione Ambiente, Angelo Dago, ha proposto in chiusura di convocare una seduta a cui invitare rappresentanti del Movimento con l'obiettivo di una discussione più articolata sul tema. E Paolo Giuso, il nuovo garante per i diritti degli animali, la cui nomina è avvenuta nel luglio scorso. E' un mondo infinito che è quello degli animali molto diversi, eterogenei. Nel nostro territorio ci sono selvatici, animali domestici, zootecnici e quelli familiari. Ci sono ovviamente i sinantro, quegli animali che vivono con noi ma noi non vogliamo, tipo i topi colombi. E poi, e sarà un problema da affrontare nei prossimi mesi, i cosiddetti non convenzionali, degli esotici. Questi mondi sono regolati da altri mondi, come le leggi complesse, articolate e anche lì eterogene, e da istituzioni, organizzazioni e associazioni. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci. Grazie a tutti.